...un punto per il TGT, segnale che c'è là su un'asse ciclo periodonale. Voi siete dire che c'è la quantificazione per la ciclabilità e per la progressione ciclabilità del territorio. Allora, è chiaro che il fatto che quel segmento, il tipo di quadrato, dal 8.3, sia segnato in verde, che è il colore appunto delle ciclargine, noi stiamo andando a ridurre lo spazio, ovviamente 12 metri sotto il mura. Allora, questo elemento mi sembra, in tantissima difficoltà, l'idea che siano compatibili con la ciclabilità, la probabilità, la posizione delle mura e il verde. Allora, perché dico questa cosa? Dico questa cosa perché ribadisco il concetto, e mi consiglio che stanno andando a un altro consiglio a una famiglia, che il tema della, come dire, precondizione, l'analità del sistema, per arrivare a dire che in quell'area, ovviamente, è interessante, c'è un direttivo, un incremento di trasformazione da un buscino a cielo aperto, come lo possiamo dire, sapete? E questa cosa mi sembra di mangiare completamente. E mi pare ancora, l'ha detto prima il consigliere Messi, noi abbiamo anche un piano dei servizi, abbiamo un piano di governo del territorio, che avrete un piano dei servizi, avrete un trasferimento di tutta la scorsa, della scorsa che ha soldi per il mio centro. Ora, noi stiamo, in grandi dettagli, io l'ho detto prima, ma non ho detto in maniera di un'opera, perché abbiamo un consenso, ho molto apprezzato il vostro impegno. Consigliere la gara, la spazificazione è la risposta, ma non è ancora preso la parola, non è ancora più io.